Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Allora siamo qui sempre per parlare del nostro amatissimo gossip che fa sempre notizia in un modo o nell'altro. E allora tra le varie donne con la maggiore professionalità e umiltà presenti nel nostro territorio italiano è proprio lei Caterina Ballivo di cui parleremo in questo video. La donna ha dato modo di farsi conoscere, farsi apprezzare dal pubblico italiano per la sua estrema professionalità in alcuni programmi che sono super seguiti dal pubblico tra cui Vieni da me o conosciamo anche il programma Detto Fatto, ma oggi invece è al timone di Chi vuol sposare mia mamma su TV8 e del nuovo programma dal titolo Help in onda su Rai 2 in seconda serata. La donna nel corso di un'intervista ha sorpreso tutti con una rivelazione veramente senza precedenti. Originaria di Napoli, la bella Caterina cresce nella città di Aversa e giovanissima comincia a farsi conoscere nel mondo della tv, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia dove in pratica si aggiudica il terzo posto. La carriera comincia a crescere in quanto ella viene scelta come balletta del programma scommettiamo che presentato dal mitico Fabrizio Frizzi. Visto il talento della ragazza è diventata inviata di vari programmi di successo tra cui Miss Italia, Miss Italia Top, Miss Italia Notte e anche i raccomandati. Fino però ad arrivare al sogno della mitica conduzione. E allora presentò Detto Fatto nel 2013 dopo un periodo di assenza dalle scene e successivamente The Helen, The Generous Show e Vieni da me in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 15.40. Oggi invece è al timone del programma su tv8 come abbiamo detto prima dal titolo Chi vuol sposare mia mamma e in un'intervista rilasciata tvblog ha fatto un sacco di confessioni affermando proprio sul format e dicendo da quando ho deciso di cambiare la mia vita a livello lavorativo ho messo una regola con me stessa che va applicata ovvero scegliere i progetti che mi piacciono a prescindere dalla rete. Loro sono stati super, mi sono trovata benissimo. Sono molto curiosa di vedere assieme a voi il risultato di questo progetto. Se dovessero arrivare progetti che mi piacciono come questo ma perché no? Ci provo che sì. Tornando a noi in una recente intervista la Balivo ha lasciato tutti senza parole per una rivelazione piccante che nessuno si aspettava però. Nel corso della trasmissione Vieni da me, presentata proprio dalla donna, si è lasciata andare a un commento davvero molto piccante proprio guarda caso sul marito Guido Maria Brera. Durante l'intervista con Franco Gatti si parlava dell'emblematico rapporto d'amore tra Sandra e Raimondo Vianello e l'artista aveva augurato che lo stesso rapporto dei due potesse valere anche per loro due, perché no? E c'è stata una risposta piccante, detto io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa, se no mi dice perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa? E quindi a casa io devo stare sempre bene. Una rivelazione hot che ci fa sicuramente capire e che ha lasciato senza parole il pubblico a casa e in studio. Non ho altro da aggiungere almeno per ora, vi ringrazio per l'ascolto, è stato un piacere, un saluto grande da Max.